Fragi e mandanti Un libro che di per sé ha già un titolo piuttosto forte Quale messaggio vuoi mandare con questo libro? Che cosa vuoi raccontare? Il messaggio che lanciamo è che la ricerca della verità è possibile che ancora oggi è possibile arrivare a capire cosa è successo in Italia dal dopoguerra ad oggi le grandi stragi che hanno insanguinato l'Italia e che hanno continuato dopo la strage di Bologna a colpire gli italiani come le stragi di mafia eccetera ciò che vogliamo dire è che ai magistrati occorre trovare la forza trovare la convinzione politica e trovare anche gli strumenti per andare avanti nelle inchieste e questi strumenti sono oggi disponibili perché i magistrati che hanno condotto i grandi processi su Piazza Fontana, su Piazza della Loggia, Brescia eccetera hanno raccolto una quantità enorme di materiale che noi abbiamo l'associazione con i suoi esperti ha raccolto, ha esaminato, ha selezionato devo dire che è un materiale che finalmente è disponibile in forma digitale quindi si possono fare con queste ricerche finora impensate e impensabili e noi abbiamo sintetizzato tutto questo materiale ha raccolto dall'associazione prima per consegnarlo ai magistrati stessi di Bologna perché continuino l'inchiesta e che vadano finalmente alla ricerca dei mandanti della strage e poi per dare la possibilità a chi vuole leggere il libro di conoscere quello che negli ultimi 20 anni i magistrati hanno raccolto, hanno individuato e che fa sì oggi si possa dire che i grandi misteri d'Italia non sono più tanto misteri finalmente ci sono delle risposte possibili a tanti interrogativi che ci siamo fatti negli ultimi decenni Paolo, finalmente si parla c'è finalmente tutto digitalizzato finalmente tutto disponibile e si parla in maniera sembra più chiara beh sì, innanzitutto c'è questa digitalizzazione poi c'è la possibilità con questa digitalizzazione di poter leggere tutte le carte assieme cioè in questi anni c'è stata una mancanza di intuizione per certi aspetti si facevano processi, non so, per mafia e si mettevano da parte processi per terrorismo si mettevano da parte processi per le grandi truffe nel mondo economico eccetera e si mettevano da parte e leggerle tutte assieme e questa è stata la grande intuizione che è stata fatta dalle associazioni e dagli esperti che ci sono perché oltre alla nostra associazione sono impegnati in questa anche l'associazione di Brescia e le altre associazioni che ruotano attorno l'unione dei familiari delle vittime per stragi ecco, questa è stata la grande intuizione e nell'ambito di questa operazione ecco che la spiegazione dal 1945 ad oggi della storia d'Italia è molto più semplice molto più facile è molto più comprensibile ci sono degli aspetti che sembravano come posso dire incomprensibili o fatti a sé e invece è tutto un collegamento che viene dal 1945 e arriva ad oggi teniamo presente che una delle operazioni che sono state fatte in questi anni è stata quella di tenere la strage di Bologna a sé stante come distaccata dalle stragi del 1974 dal caso Moro e via di questo passo invece no, il disegno è unico e addirittura arriva fino al 93 le stragi del 93 e probabilmente arriva fino ad oggi perché anche oggi abbiamo dei tentativi di inclinare la fiducia nelle istituzioni di creare dei grossi problemi alle istituzioni stesse quindi la parola magica è fare rete scambiarsi le informazioni perché come dicevi tu prima giustamente le varie associazioni che si occupavano di stragi erano comunque in contatto sì ma fino ad un certo punto ma il problema è fare rete fare in modo che tutti questi processi e anche altri vengano digitalizzati processo che c'è progetto che viene avanti anche a Bologna avanti a Milano molto probabilmente riusciremo a farlo anche con i processi di eversione fatti a Roma e tutto questo il poter leggere assieme questi dati ti porta a una visione unitaria e molto sconvolgente della storia italiana il grande preso di questo libro è che è fatto con documenti che hanno già passato il vaglio processuale qui non c'è niente di segreto qui non c'è niente di strano o di indagine nostre no, qui ci sono una lettura dettagliata e meditata di tutti questi atti che vanno dal 1945 ad oggi e c'è da dire una cosa ancora di più i depistaggi i depistaggi sono una chiave di lattura eccezionale e questi depistaggi fanno dire che la possibilità veramente di spaziare di ritornare a chi ha fatto i depistaggi e a capire chi ha mandato i depistatori e chi ha mandato i terroristi anche perché ad esempio il depistaggio affatigato che è un depistaggio che noi pensavamo nascesse subito dopo la strage nasce nel marzo del 1980 cioè qualche cosa come quasi sei mesi prima della strage perciò chi ha impostato questo depistaggio sapeva già che la strage doveva avvenire elementi molto raffinate mi permetto soltanto di aggiungere questo tu hai parlato di rete è giusto che la rete l'abbiano i familiari delle vittime l'abbiano i giornalisti ma è importante che la rete che lo scambio di informazioni sia finalmente possibile anche tra i magistrati che si occupano ciascuno di cui ogni singola inchiesta finalmente possono mettersi insieme e insieme possono leggere fatti e cose che magari non sospettavano neppure il loro magistrato vicino di banco sapeva e vedeva e oggi è possibile quindi avere questi quadri di insieme che può portare molto vicino alla verità vi vorrei chiedere un'ultima cosa mandanti mandanti legame con lo Stato c'è o è una mia fantasia? no sono uomini delle istituzioni uomini all'interno delle istituzioni che hanno tramato e operato per arrivare a cambiare lo Stato democratico completamente cambiarlo cioè noi non dobbiamo mai dimenticare perché in un primo tempo fino al 74 si parlava di cambiare l'ordinamento costituzionale con un colpo di Stato militare e cose di questo tipo dal 74 in avanti c'è stato il piano di rinascita della loggia massonica P2 che era un cambiamento dall'interno per avere poi comunque lo stesso risultato di creare uno Stato antidemocratico grazie